E' una gioia vedere tante persone che per questa brutta esperienza siamo ritrovati qua. Io ringrazio tutti, volevo dare la parola all'assessore Blumenti che è qua con noi per salutare in questa occasione qui. Non esistono confini nelle città quando si parla di violenza, non esistono confini, Corsico e Milano, Milano e Trezzano, Trezzano e Buccinasco, Buccinasco e Cesano, non esistono confini. Noi siamo qua per dire no alla violenza sulle donne, siamo qua per dire che dobbiamo essere libere di correre, di camminare, di passeggiare, di chiacchierare. Siamo qua per dire che le donne e gli uomini possono vivere insieme rispettandosi e che non c'è giustizia se non c'è libertà nel fare le cose insieme. Viva le donne che gli uomini chiamano le donne!